Molti ricorderanno il dramma di un uomo malato terminale che viveva gli ultimi giorni della sua vita in una straordinaria sofferenza. Pier Giorgio Welby chiese al Presidente della Repubblica l'autorizzazione per una dolce morte, visto che per lui anche respirare era una sofferenza. Oggi la moglie Mina, unitamente all'Associazione Luca Coscioni, la Consulta Bioetica, la UAR e altre organizzazioni, stanno proponendo un disegno di legge per l'eutanasia legale ed il testamento biologico e portare in Parlamento la discussione sul tema. Occorrono 50.000 firme da raccogliere entro il 15 settembre. L'argomento è molto discusso, gli oppositori ad un'eventuale legge sono veramente tanti. Occorre però ricordare che oggi in Italia che aiuta un malato terminale a morire rischia 12 anni di carcere. Nel codice penale esiste ancora l'articolo 579, da un titolo esplicito, omicidio, dice, omicidio del consenziente. Mentre la Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto al trattamento sanitario contro la sua volontà. Una contraddizione in termini che non può essere ulteriormente tollerata. Ecco perché l'incontro di erno ed altri incontri che ci saranno in tutta Italia. Sull'argomento abbiamo ascoltato la signora Mina Welby. Da tanti tanti anni si cerca di discutere, di parlare sulla buona morte. Questo è il nome tradotto eutanasia. Ma abbiamo purtroppo ancora il ricordo del nazismo dove questa parola veniva usato per fare dei crimini dove venivano ammazzate veramente tantissime persone innocenti. Noi, l'associazione Luca Coscioni, Radicali, UAR, Amici di Eleonora e Exit Italia, promuoviamo una proposta di legge appunto sul rifiuto di terapie, cioè trattamenti sanitari, testamento biologico e eutanasia legale, cioè una buona morte non nascosta. Oggi sappiamo che negli ospedali lasciano morire delle persone, aiutano a morire le persone, ma non viene detto. In futuro se questa legge, questa proposta di legge diventa legge, un medico è comunque protetto. Lei rifarebbe quello che sta facendo adesso se potesse tornare indietro nel tempo? Io non cambierei nulla di quello che ho fatto, farei tutto quello un'altra volta. Forse sarei ancora più combattiva insieme a Pier Giorgio. Io ero accanto a lui, facevo però di tutto per trattenerlo e questo oggi mi dispiace di averlo fatto, però lui capiva e mi ha detto lo so che tu mi hai voluto bene e l'hai fatto per amore, ma io non ho niente da perdonarti, tu sei stata quella, l'unica persona nella mia vita che non mi ha mai tradito.